ciao a tutti i ragazzi e benvenuti in questo nuovo video io sono il portiere del prosinone finalmente è uscito capitan subasa e isi il gioco di capitan subasa o oli e benji io mi chio un po i nomi alcuni personaggi li chiamo coi nomi originali altri coi nomi di oli e benji comunque sono gazzatissima sono molto felice di portarvi questa guida cioè più che guida questo gameplay perché è la prima volta che ci gioco non so nulla di questo gioco e niente spero vi piaccia questa serie se volete sopportarla se volete supportare il mio canale come al solito l'argomento principale il calcio faccio soprattutto edit sul calcio però ogni tanto vi faccio appunto anche su oli e benji o capitano subasa anzi da quando sto registrando avevo pure fatto uno di recente vabbè se vi piace il mio canale volete supportarmi vi ricordo di lasciare like iscrivervi al canale e attivare la campanella detto questo inizia viaggio tiro istantaneo agile ai caricamento pensavo di dover selezionare il persano sono tutte guide sta caricando sana in a cavo oppure detta anche come parti gli altri allenatori hanno creato la propria squadra non possiamo rimanere indietro io l'ho sempre odiata lei come personaggio dobbiamo per prima cosa aiuta ai aumentare nella potenza nella formazione reclutiamo nuovi giocatori ecco il centro del reclutamento ok io mi chiamo simple now i dati dei giocatori ed effetto il reclutamento grazie conferma non so cosa sia questo reclutamento la grafica è bellissima la grafica è bellissima qui c'è holly che fa il tiro guidato o pallonetto effettato io lo chiamo più pallonetto effettato anche se qui lo chiamano qui tiro guidato che ha spaccato tutto c'è ho trovato ted carter o come lo ci sono qui a shimtaki vabbè magari è forte non lo so ehi a shimtaki magni no ah ehi a shimtaki magnifico se se vai avanti così anche il trio shoot e tu sarà della nostra squadra yeh che bello non ha chiesto nessuno da tua parola patti ma va bene trascina shimtaki nella posizione corrispondente della formazione non ho chiesto a te la guida magari a qualcun altro salva accogliamo shimtaki nella squadra sono sicuro sono sicuro penso sia un errore di traduzione sono sicuro che questa sia una formazione molto competitiva andiamo a controllare la potenza del trio shoot e tu che bello ma marcia entusiasta quella che ho io adesso cioè sono entusiasta per il gioco ma non per patti inizia la sfida non so cosa sia sto facendo tutto il live con voi non so niente di questo gioco non ho visto nessun video non ho la minima idea di come sia fatto qui mi dà le informazioni su appunto ted garter che io chiamerò ted carter perché la shimtaki come nome non mi piace e vediamo come cos'è questa sfida sono molto in hype sono molto in hype questo noi siamo simple now che nome strano molti giocatori non li conosco nemmeno perché sono personaggi non secondari di più ok ci proverò turam altro che chi è lui paul diamond turam liliam turam poi abbiamo ted carter allora di nuovo su tiro in port vabbè bisogna capire bene il bisogna capire bene il gioco non è una cosa facile però ha il suo perché è molto simile a fifa mobile e a carino a me fifa mobile piace questo carino forse un po laggoso per ora però vabbè un gioco che appena uscito è già finito già finito a quanto pare sì è un pareggio ma quello è diaz cioè non diaz quello con la frangetta è pascal penso gli gemelli d'arric adoro 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 i gemelli d'arric fanno troppo ridere clary donna vince la prima partita tutti sono in ottima forma con questo con questa partita sono sì ti uomo sicuro sono sicuro che acquisteremo molte esperienze sul calpo ora potremmo radunare le migliori abilità di ogni giocatore per aiutarli ad aumentare la nostra potenza non ho chiesto la guida a patti ci fosse stata e mi sarebbe anche andata bene ma patti mi sta proprio antipatica abbiamo migliorato ted carter adesso magari è più potente avanzo potenziale non ho fatto in tempo a legge però certo sono sicuro e vediamo adesso forse ci fa riprovare a fare la partita che è una partita di 20 secondi non capisco come dovremmo fare gol in 20 secondi ma vabbè ci proveremo neanche i giocatori veri penso che faranno gol in 20 secondi a meno che a meno che tipo non è non c'è uno scontro che so ischia contro milan lì forse il milan farà un gol in 10 secondi ma non penso ci sarà mai uno scontro del genere ok calcio d'inizio che johnny la passa a paul hanno già preso la palla e stanno già avanzando ok passaggio corto devo imparare un po i tasti perché non perché sono abito essendo abituata a quelli di fifa sono un po diversi questi e quindi un po difficile e poi qui non c'è la modalità secondo difensore questa cosa un po mi dispiace teme oh gol 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 di ted carter lui è ted carter almeno nella traduzione non gli e ben ci si chiamava ted carter e quindi io lo chiamo così ehm allora dai dobbiamo mantenerci il vattaggio no no se mi fa gol adesso io mi arrabbio io mi arrabbio bravo rio gazzu du non so chi tu sia e non mi interessa per me esistono solo benji alan crocker gli altri boh anche wakashimazu non è male però gli altri però gli altri boh però benji alan crocker nel cuore e abbiamo vinto la simple now perché mi chiamo così si chiama così la mia squadra non lo so non so neanche se si possa cambiare nome spero di sì e vai abbiamo vinto adesso sei contenta lascia la sfida benissimo abbiamo ottenuto due vittorie consecutive ma abbiamo pareggiato sembra che anche la potenza degli avversari stia aumentando senza sosta nelle prossime partite incontreremo sicuramente avversari sempre più forti ma va tuttavia anche noi continueremo a crescere e sono sicuro di nuovo sicuro che andremo avanti con questo ca campo di allenamento arriveremo ma ai primi posti della dream league non guppare patti qui abbiamo preparato delle missioni di sviluppo del campo di addestramento per la nostra squadra speriamo che ti pre che ti porteranno ad essere d'aiuto con le sfide delle missioni sono sicuro che non avrai problemi basta sto sicuro lo devo mettere nella copertina del video raro ho trovato non so cosa il calcio è una buona amica tutte le traduzioni sono sbagliate limiti in tempo ma niente no guarda qui questa è la porta della nankatsuri e shizaki non mi interessa perchè fa schifo scatta in avanti inizia il campionato non so cosa sia continuiamo a impegnarci insieme ok campionato vediamo cos'è il campionato battaglia per la posizione della dream league ok vai vediamo un po' dream league scambio le tecniche migliori con i più stagione 1 la prima stagione grado stagione attuale torneo qualificazione terzo bene eccomi frate ho capito come si fa a giocare sfida sfida ah devo sfidare la squadra di johnny johnny mason il cognome non me lo ricordo ma scusa johnny c'è sia da me che dall'altra squadra perchè il portiere è anche lo stesso sconosciuto vabbè noi però abbiamo il trio della san francis i tre moschettieri della san francis io non lo chiamerò mai i tre moschettieri della san francis a meno che non per leggere perchè sennò mi si intreccia la lingua ma non lo chiamerò mai di mia spontanea volontà con quel nome lo chiamerò sempre i tre moschettieri del san francis bene adesso iniziamo a giocare mi fa ridere vedere johnny in entrambe le squadre ecco la nostra squadra ed ecco la squadra di johnny allora il calcio d'inizio effettivamente evidentemente è nostro ok allora proviamo a fare qualcosa di interessante eh certo si tiro dalla distanza ovviamente non penso che farò mai qualcosa di buono passaggio perchè non mi fai passare? no questo gioco è divertente ma devo capire le miccaniche placcaggio placchiamolo facciamo un bel intervento falloso si 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 tiro in porta a caso vabbè tanto per provarci tanto abbiamo due minuti di tempo ho sbagliato il pulsante volevo passarlo devo solo abituarmi ai pulsanti e penso che mi ci potrebbe volere un po' tiro rapido e gol Ted Carter è sempre il sarà il capo cannoniere è l'attuale capo cannoniere della nostra squadra mamma mia sulè praticamente è il sulè della simple now devo cambiare nome magari la riesco a chiamare frosi no se riesco a cambiare nome la mia squadra si chiamierà frosi no 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 portiere portiere pensaci tu bravo portiere bravo portiere hai preso esempio da i grandi del passato come Turati cioè che in realtà è del presente quindi i grandi ha stato come Giovanni Cervone mettiamo qua Giovanni Cervone però non ha picchiato non va bene non hai picchiato l'avversario Giovanni Cervone non ha prova vabbè mancano 13 secondi e speriamo e direi di portarla avanti perché perdere tra 6 secondi sarebbe abbastanza imbarazzante ma non so se ci sono i minuti di recupero in questo gioco almeno non lo so comunque la grafica è molto bella c'è solo qualche problema nella traduzione perché sono sicuro per fatti che è una femmina la trovo una cosa un po' strana e abbiamo vinto evviva si festeggia la simple no devo cambiare il nome alla squadra fatemi cambiare il nome alla squadra non voglio chiamare la simple simple now che vuol dire now poi abbiamo battuto la squadra di Johnny perfetto continuo no no ma comunque è un gioco carino mi sto piano piano abituando ai pulsanti mi ci vorrà ancora un po' bene allora c'è un modo per tornare indietro non lo so onestamente ok vediamo se si può cambiare nome alla mia squadra oh si si può nome attuale semplice di massimo 14 caratteri ok allora noi saremo tra l'altro ho la tastiera anche in tema la squadra del frosinone mi fa mettere anche tipo i cuoricini in giallo blu no vabbè confermo siamo non è abbastanza non è abbastanza carta rinno rinomino allenatore principe non è abbastanza carta rinomino allenatore se trovi se frosinone quanta carta mi serve dove la trovo la carta dove si trova perché ma se tipo volessi chiamare la mia squadra ah me la no nemmeno ah la posso chiamare oh prima mari oh si 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 moris e che cavolo io voglio morisaki voglio morisaki che in realtà è alan crocker per ottenere il giocatore raro non è vai come ottenere vai conversione degli oggetti fondi nella lista si deve scegliere un contenere ok scompone eh non so come funziona devo capire un po' le meccaniche di gioco e io voglio però morisaki ma come si attengono queste sere offerta giornaliera non è tutto a pagamento e c'è qualcosa di gratuito ma qualcosa ma qualcosa di gratis no evidentemente per ora no forse cose me le devo guadagnare però qui ho completato delle missioni perfetto quindi divinco altri palloni d'argento che non so a cosa premi qui per controllare l'aiuto dei fan ok grazie i fan mi hanno regalato 20 palloni non c'è mi mi piace mi piace perfetto grazie per i ma come si ottengono i palloni d'oro non lo so vabbè lo scoprirò evento c'è un evento beh io non ho capito come si ottengono i palloni d'oro ah qui posso riscattare questi bene non dirmi che i palloni d'oro sono spappagati ah no si dei palloni d'oro evvivo ho ottenuto dei palloni d'oro Tsubasa Ozora ok riusci Zaki non ti voglio risparmi ok allora vediamo magari mi fanno ottenere Alan Crocker voglio voglio Alan Crocker voglio Alan Crocker e dov'è lo scabbio per i palloni ottiene da reclutare come si ottiene Alan Crocker non lo so voglio voglio ottenere Alan Crocker vai alla ricarica no no si ottiene comprando i palloni mi sa ottenibile dallo scambio oggetti ma forse questo me lo no non ho basta voglio io vorrei ottenere Alan Crocker perché non mi fa avere Alan Crocker sfida dei fuori classico non lo so dream team un pezzo di puzzle e vabbè lo capirò in futuro direi di fare un'altra partita di campionato e poi possiamo finire direi che può terminare qui il primo episodio non ho ancora capito bene come funziona ma la capirò la mia formazione si può modificare non lo so controllo sto sperimentando tutto così lui è un allora vediamo vediamo chi ho in squadra lui secondo me è meglio di lui forse non lo so se li cambio cambia qualcosa vabbè teniamo mettiamoci setu che per me lui lo chiamerò setu lo so non so mia setu però non è simile setu te suo non so per noi sarà setu aspetta no devo salvarla salviamo bene ok quindi campionato e direi direi di facciare per le posizioni la prima sfida per le posizioni la seconda partita per le posizioni della dream league oggi non so parlare partita sfida ah ma perché i punti che la si raggiungo ma come faccio a ottenere i punti come si fa non so come si fa non c'è nient'altro che io possa fare ripristino boh non so campionato non c'è nient'altro l'evento appare tra ah vai sfida perché come gli devo ottenere questi pu ma dovrei avere tutto i punti che si raggiungono mille non capisco non sto capendo e vabbè non c'è nessun altro modo in cui io posso giocare prova sul campo che è marcia entusiasta allenamento speciale tattica variabile via per diventare campioni e vabbè direi che questo primo video può finire qui proverò camera a capire bene il funzionamento e spero vi sia piaciuto e ciao a capire a capire a capire